Salve ragazzi, benvenuti al canale, oggi raga di nuovo qui sulla splendida mappa francese, la mappa Hot Baileron qui su Farming Simulator 22 Allora ragazzi, siamo lasciati lo scorso episodio, se ben ricordate, con l'arrivo della prima neve, oltre vabbè al restyling di tutta la mappa E a sorpresa il nuovo trattore John Deere che non mi sarei mai aspettato di comprare ma che era in sconto, pensate, del 64% Ovviamente per chi non avesse visto la puntata, mi raccomando, andatevela a vedere perché veramente è stata una bellissima puntata Allora oggi che facciamo? Beh, dobbiamo partire con il visionare la GPS Mod che vi ho introdotto diciamo così nello scorso episodio Quindi direi che dobbiamo mandare a primavera, credo mi pare aprile se non mi ricordo male, vediamo un attimo Sì, aprile perché dobbiamo iniziare a seminare il mais E direi che ragazzi, senza perderci troppo in chiacchiere, mandiamo subito verso primavera E ovviamente nel frattempo che io mando verso l'aprile, verso la primavera Vi ricordo come sempre che giù in descrizione potete trovare tutti i miei link utili Ho preso anche un link che vi permette di comprare questo ma anche tanti altri giochi scontati Ok, sono andato un po' troppo oltre ma va bene, 14.40 del pomeriggio del primo di aprile Siamo saliti a 60.000 euro nel frattempo Come vedete questi 6.000 euro di entrate della tenuta sono del meleto, in teoria dovrebbe essere Quindi in teoria abbiamo ben più che guadagnato da questo meleto già Anzi quasi quasi io direi che prima di partire un attimino vorrei metterne probabilmente ancora uno qua Perché qua direi che forse ci sta bene, vediamo un attimino E dovrebbe essere un po' più carino, sì, ok, perfetto Allora, prendiamo la seminatrice Che però direi che probabilmente possiamo anche già iniziare a pensare di cambiarla Già che siamo in stagione, probabilmente io inizierei a cambiarla Vediamo un attimino magari che cosa prendere E iniziamo a seminare Ah, a proposito, che seminatrice? Devo prendere la piantatrice però E allora niente, mi compro una piantatrice E vediamo un attimo, piantatrice Caspita, questo Yoskin è in offerta al 70% Ed è uno Yoskin praticamente, raga, moddato Infatti vedete che può portare anche i cavalli E allora me lo compro, raga, perché costa solo 9.000 euro da quello che ho letto 7.000 euro Ok, lo paghiamo praticamente 14.000 euro Raga, me lo sono preso perché è veramente stato un prezzo imbattibile Avrei voluto prenderlo più avanti Però dato che tra poco inizieremo a prendere i primi allevamenti Questo ci tornerà molto utile Quindi adesso lo mettiamo da parte Poi ovviamente lo utilizzeremo a tempo debito Niente, dobbiamo prendere la piantatrice A questo punto qui non abbiamo nulla Ci sarebbe anche il cassone da carico Che, porca miseria, lasciamo stare Va perché se no faccio troppi acquisti Allora, ho trovato una piantatrice, raga, che potrebbe interessarmi Che è la Wernerland da 89.000 euro Che è praticamente a traino e nello stesso tempo ha il 3 punti però Ho visto adesso che un qualche piccola vendita possiamo farcelo Nel senso andare a restituire un qualcosa Ovvero un po' di trattori, raga Perché guardate quanti trattori abbiamo Cioè siamo solo all'undicesima puntata Abbiamo già 6 trattori Il che è veramente esagerato adesso Quindi direi che magari i trattori Quelli un po' più è Ce li andiamo a vendere Tipo magari Non so se vendermi magari lo Steyer E il Massey Ferguson Sì, vendiamo loro due Mi tengo il Valtra Il John Deere Perché il John Deere guardate quanto ce lo valutano Niente Sì, facciamo che li vendiamo questi qua Così almeno recuperiamo anche un due soldini Vendi e vendi Ok Così adesso abbiamo recuperato un po' di soldi Possiamo effettivamente comprarci Ok L'ho venduti raga Perché come ripeto C'erano davvero troppi trattori E poi Come dire Determinati trattori Ad esempio io da quando ho comprato il Fend Non l'avevo ancora mai utilizzato Se non un paio di volte Con la scusa almeno Possiamo utilizzarli un po' di più E fare un po' anche Cambio trattore Un pochettino vedere anche qualcosa di Di nuovo insomma Con la scusa che adesso abbiamo questo nuovo John Deere Non è male come idea Allora Inizia riempimento Ok mi devo tenere un po' più all'interno Eh Va bene Iniziamo il riempimento L'abbiamo iniziato E poi inizia riempimento Vorrei iniziarlo anche del Eh Ok Ed ecco anche il fertilizzante Ne ho preso circa 500 litri Momentaneamente Poi Vediamo se magari Dovesse servirci ancora Lo andremo Eventualmente a ricaricare nuovamente Ehm Vediamo un po' Di partire dal campo Ma si Partiamo direttamente dal campo 38 Bella sta seminatrice Raga Davvero molto bella Non ho visto neanche L'ampiezza ma Devo dire Molto molto L'officina Come funziona Quindi Fermiamo qui sto robo Allora ok Mettiamo un operaio Così facciamo andare la Semina Del mais E io nel frattempo appunto Col John Deere Vado un attimino a vedere Come va La riparazione Dei veicoli Insomma Andiamo a sistemarla Allora Vediamo un po' Ripariamolo Condizioni Scarsissime Condizioni della verniciatura Ancora più scarse Però la verniciatura Costa 11.000 euro La riparazione Solo 6.000 Quindi la ripariamo Bene Adesso in teoria Dovrebbe essere un po' Più brillante Come trattore Dovrebbe andare un po' Meglio Ma qua abbiamo un sacco Di sementi Da venire a recuperare Comunque Già che ci siamo Devo controllare Anche un attimino Le serre Allora Le fragole Mi sembra un po' Basso I pomodori Mi sembra abbastanza alto E le lattughe Anche Mi sembra abbastanza alto Non troppo Ma comunque abbastanza alto Allora si Devo andare a vendermi I pomodori Per forza Perché se no Prima di andare a fare Quel discorso la Della GPS E tutto il resto Facciamo finire Di seminare il campo 38 Oramai all'operaio E intanto mi vado a vendere Tutta sta roba qua Appena il campo 38 Ha finito L'operaio insomma Del campo 38 Ha finito Andiamo a testare Sul campo 40 41 La GPS mode Così vediamo anche Un attimino Come si comporta Ok raga Primo carico di pomodori Nel frattempo Che quello va Direi che ci possiamo A questo punto Partire con La prossima Il prossimo filare E direi che possiamo Oh Meraviglia delle meraviglie Quanto paghiamo? Caspita La bellezza di 10.000 euro Ok dai Due per il momento L'ho fatto Non voglio spendere Troppi soldi Raga Facendo tutti sti filari Quindi ne facciamo Un paio alla volta A questo punto Ok Devo dire che si sta Allargando parecchio Il nostro bel vigneto Qua sarà Come abbiamo detto Venire da A fertilizzare Quindi proviamo Un attimino A vedere Se intanto Abbiamo qualcosa In sconto No Lo noleggiamo E ci compriamo Anche un pallet Magari di fertilizzante Liquido Così testiamo Anche un attimino La fertilizzazione Del vigneto E per il momento Lo noleggio Tanto questa roba qua Che io sappia Devo farlo solo Una volta all'anno Quindi non credo Sia troppo Un problema Ok qua stiamo andando Qua stiamo andando Va bene dai Penso che posso farcela Un attimino A fertilizzare il vigneto Al limite poi metto Un operaio Possiamo Fertilizzare Allora Facciamo una prova Vediamo un attimino Sì raga dai Sì 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 Stiamo assolutamente Fertilizzando Ci vorrà più di una fertilizzazione Infatti come vedete Qua è decisamente Molto meno Ci vorrà molto di più Di una fertilizzazione Però in teoria Dovremmo esserci Vediamo per essere sicuri Vediamo qua Togliamo l'arratura Togliamo questo Sì esatto Stiamo fertilizzando Ok raga Ultimo pezzettino Che è questo qua In teoria dovremmo aver Fertilizzato Sì alcuni punti ovviamente Fertilizzati al doppio stadio Alcuni punti al primo stadio Sicuramente bisognerà venire A fare altre fertilizzazioni Quindi non vengo Non restituisco momentaneamente Lo span di fertilizzante Lo lascio ancora così Vediamo Pagherò qualche costo di noleggio Ma non fa niente direi Qui abbiamo finito Però prima qui Devo venire a vendere Ok 4.989 Non male Abbiamo fatto un bel po' di soldini Boh nel frattempo Che quello lì va Io direi che questo è affinito Il GPS Noi sul Valtra Lo abbiamo Quindi direi che possiamo Partire a Visionare Quello che è Appunto Il GPS Allora Per attivarlo Bisogna sempre Dal tastierino Della tastiera insomma Del pc Schiacciare Alt C Si attiva Appunto Il ricevitore Del Del GPS Una volta Premuto Alt C Quindi attivato Il ricevitore Con Control Di sinistra E il tasto S Si apre Il magico Menu Da qua si può Sistemare La larghezza Quindi noi andiamo a fare 9 metri In questo caso La nostra semina La nostra Piantatrice È 9 metri Attiviamo la guida Staring Mostriamo la traccia Ovviamente Si Dobbiamo però Impostare Il punto A Allora noi facciamo partire Che il punto A È questo Quindi impostiamo Il punto A Adesso dobbiamo Praticamente Fare Un po' Di strada Giusto per Indicargli Che la linea Corretta è questa Ok Di nuovo Control S Control S Scusate E il percorso Si è impostato Guardate qua Adesso sono apparse Le due linee Laterali Da qua Poi possiamo Praticamente Fare track name In questo caso Settiamo Piantatrice 9 metri Piantatrice 9 metri Basta E la salviamo E ora abbiamo Il punto selezionato Salvato Insomma È il nostro percorso Salvato Ogni volta che schiacciamo Su qua Abbiamo già Il percorso Preimpostato Bene In teoria Facendo Alt X Esatto Si attiva La guida Automatica Quindi noi basta Che facciamo Schiacciamo Il 3 Della tastiera E lui guida Totalmente In automatico Noi dobbiamo Tenere conto Solamente Di fare Le testate Quindi lui Va dritto Fino a che noi Non fermiamo Appunto L'acceleratore Manuale Insomma Questo Va da sé Da solo Ok Direi che il funzionamento Comunque è abbastanza Semplice Non c'è nulla di così Complicato Si può tranquillamente Utilizzare Anche perché è una mod Pressoché Molto realistica Ovviamente sentite anche i rumori Che ovviamente la GPS fa Quello è uno dei classici rumori Che indica che siamo arrivati Praticamente Alla fine del campo Muovendo ovviamente lo sterzo Si disattiva Quella che è la guida Automatica Insomma Quella che poi Ci permette di andare Nella linea dritta Seguendo poi le varie linee Quindi vedete che si sposta Poi la corsia Si sposta E noi possiamo ovviamente Andare a Reimpostargli La guida automatica Come vedete La linea centrale Passa da bianca a verde Abbassare la seminatrice E dargli il Via con l'acceleratore automatico E di lì Lei Continua a procedere Tranquillamente Senza nessun problema Adesso io mi faccio Un paio di Di passate Poi ovviamente Andiamo a mettere l'operaio Perché dobbiamo comunque Oh 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 Alt Alza Ehm Bon Fermiamo un attimino La GPS Ok Allora Andiamo un attimino A riempirci nuovamente Di Di semi Allora niente Purtroppo sto riscontrando Un problema abbastanza importante Nel senso che non mi apre La copertura Comunque va bene A parte ciò Allora In teoria questo è La mod Si chiama Bulk Bay Discount Una roba del genere E da quello che ho capito Più acquisti Meno paghi Il Ehm Prodotto Quindi proviamo a comprare Intanto Otto sacconi Facciamo compra Per 12.000 euro I costi di non so cosa Abbiamo risparmiato Praticamente 2.000 euro E raga Quindi il costo Di un saccone Abbiamo risparmiato In totale Che non è male Insomma Da quello che ho capito Questa mod serve a Più compri Più Ecco si è aperto Finalmente Più compri Più Comunque Diciamo che La semina Sta avvenendo Veramente Che è una meraviglia Adesso più o meno La gps Ve l'ho fatta vedere Ma poi Nel corso Ovviamente Della serie Nelle prossime puntate Nelle prossime serie Neanche nelle altre serie Tipo la serie alpina E la serie Elm Creek Poi vi farò vedere Comunque Sempre la gps Quindi poi la vedremo In condizioni Probabilmente Anche molto più estreme Ehm Vi farò capire Poi pian piano Il vero funzionamento Ok raga E altro pieno E' stato fatto Perfetto Andiamo a questo punto Di nuovo Al negozio agricolo E andiamo a fare Ehi piano E andiamo a fare Quest'altra bella vendita Ok Lasciamolo partire Così intanto lui procede Qua con la semina Stiamo devo dire Procedendo molto Molto bene Ma non so Ci vorrà la fertilizzazione 50% di fertilizzato Volevo vedere un attimino Ehm Per quanto riguarda No vabbè Comunque la fertilizzazione Sta andando bene Allora raga Già che ci siamo Devo andare un attimino A sistemare Ehm I polli Perché ho appena visto Nel frattempo che Facevo andare L'operaio Che Non c'è rimasto più nulla Eppure non è come Si vabbè Ho mandato avanti Effettivamente un po' di giorni Perché ho mandato da febbraio Ad aprile E poi ancora da settembre a febbraio Quindi effettivamente Sei mesi Sono passati Quindi credo che Comenga andare A dargli un po' Da mangiare Se non vogliamo Che ci rimangano Tutte secche Nel pollaio Così con la scusa Testiamo anche Il tubo del silo Sperando che Io riesco a passare Poi da qua Allora Ehm Orzo Lo abbiamo Basta Direi che Così è più che sufficiente Passiamo Sì non ha collision I rami Questi bassi Bene o male Ottimo Allora andiamo a dargli Da mangiare Le nostre belle gallinelle E poi altra cosa Devo vedere Quanto vengono Le uova Perché se costano Un bel po' Quasi quasi Me le vado magari A vendere Vediamo un attimo Ehm Uova No Il prezzo L'altra volta L'avevo visto a 4600 Adesso siamo sui 3002 No 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 Ok dai raga Ho sistemato il Il Come si chiama Il pollaio Adesso Direi che andiamo a scaricare Ancora un po' di sta roba qua Così vado poi a controllare Un attimo la semina E' tempo di terminare Ancora queste ultime due robine La semina E le ultime due robette Che abbiamo da terminare Poi direi che raga Possiamo anche salutarci La piantatura del mais Ha avuto Davvero un ottimo successo Sia Per quanto riguarda La gps mode Che per quanto riguarda Proprio Anche la seminatrice stessa Perché devo dire che Abbiamo fatto Un bel acquisto Vabbè Intanto Finiamo Sto pezzo qua Per quanto riguarda L'altro campo Non so se lo farò Off camera Se lo facciamo nel prossimo episodio Poi mandiamo avanti Perché il prossimo episodio Sinceramente Non so che cosa Andremo a fare Nel frattempo Lagù vedo che stanno Spawnando pallet A tutto spiano Sono andato Non mi ricordo Se ve l'ho detto Ma credo di no Eh infatti Guardate quanti pallet Sono andato Raga Praticamente A inserire Il trigger Per l'alveare Questo è un trigger Moddato Raga Non è il trigger Che ho messo Nello scorso episodio Lo sono andato a sostituire Perché il trigger Non male Mi sembra che possa contenere Due pallet Al proprio interno Invece questo trigger qua Ne può contenere La bellezza di 18 Infatti guardate che Quando siamo andati avanti Quanti pallet Sono spawnati Se è un buon prezzo Caspita 3.600 Eh ma è tutto in salita Vabbè Siamo ad aprile E' sceso effettivamente Perché poteva essere Più alto a marzo Però 3.600 Ed è addirittura In fase di crescita Allora Eccoci arrivati Carichiamo Il nostro bel miele Wow Quanti Quanti pallet 11 pallet e mezzo Vediamo quanto facciamo Da questi 11 pallet e mezzo Di miele Vediamo cosa ne esce Ok Bom Mandiamolo a vendere Raga Bom Operaio messo Andiamo a vedere Se cammina Si Va bene Ok raga Finalmente Eccoci arrivati Al punto vendita Allora Direi che Nel frattempo Che vendiamo Direi che Comunque per questo episodio Possiamo anche fermarci qua Perché abbiamo già visto Un bel po' di cose Come sempre Vi ricordo che Giù in descrizione Comunque potete trovare Tutti i miei link utili Compreso ovviamente Un link che vi permette Di comprare questo Ma anche tanti altri Giochi scontati Vendita di 5.000 euro 5.700 Direi che Non è male Mi accontento Detto ciò raga Io ovviamente Vi ringrazio per la visione E ovviamente Ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti